Il Consiglio Comunale di Fano ha approvato il bilancio di previsione da quasi 197 milioni di euro, tariffe invariate e tari in calo per le utenze non domestiche, in aumento le famiglie che verranno esentate dal pagamento dei servizi educativi. A Fano si cerca la Basilica di Vitruvio, indagini sospese in attesa dei fondi, intanto il sindaco Seri invita il ministro San Giuliano a vedere gli scavi. Atti vandalici al parco di via 27esima strada a Bellocchi di Fano, la denuncia di un telespettatore che chiede provvedimenti dopo l'ennesimo episodio. La gente ha detto ha paura di denunciare per le ritorsioni. Bonifica alla condotta idrica, lavori in corso nel centro storico di Fano, prevista la posa di 660 metri di nuove tubature con intervento a stralci per ridurre al minimo i disagi. Corie e contestazione dei tifosi biancorossi alla Vispesaro, forze dell'ordine impegnate fino a tardanotte. Il responsabile dell'area tecnica si scusa e assicura il massimo impegno. Dobbiamo restare uniti, è un momento difficile. Sostenere chi è in difficoltà sotto l'aspetto alimentare e abitativo, presentato il progetto Reti Solidali, curato dalla Caritas diocesana di Fano. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio e la Notizia sul canale 19 di Fano TV. Come avete sentito dal nostro sommario, raggiungendo la cifra di 197 milioni grazie ai contributi del PNRR, il Comune di Fano ha approvato il bilancio preventivo, un provvedimento che è stato oggetto di un animato dibattito. Ma sentiamo i particolari nel servizio di Massimo Foghetti. È stato approvato l'altra sera in Consiglio Comunale, dopo un'ampia discussione, il bilancio preventivo del 2023, uno strumento contabile che ha ridato alla Giunta la piena operatività. Pur contrastato dalle minoranze, che l'hanno definito una manovra pre-elettorale, contiene precise scelte, sia dal punto di vista contabile che politico, privilegiando i settori dei servizi sociali e quelli dei servizi educativi. A presentarlo è stata l'assessore alle finanze Sara Cucchiarini, alla quale chiediamo subito se c'è da aspettarsi un aumento delle tasse e delle tariffe. Abbiamo fatto una scelta precisa in Giunta di rimanere e lasciare le aliquote dei servizi domande individuali, quindi menze, trasposto scolastico, tutti i centri diurni alle tariffe invariate, senza applicare il tasso di inflazione programmata. Significa una minore entrata di circa 150 mila euro in meno. Abbiamo fatto una scelta anche importante per quanto riguarda la Tari, perché abbiamo deciso di applicare un recupero di evasione a sostegno del pagamento del PEF Tari, un fondo di circa 550 mila euro. Le utenze domestiche rimangono sostanzialmente invariate, invece le utenze non domestiche hanno addirittura, siamo riusciti addirittura a diminuirle di un 1,5%. Un aumento delle esenzioni per quanto riguarda i servizi educativi per le famiglie. Questo significa per il Comune di Fano una minore entrata di oltre 100 mila euro. Queste sono precise scelte che vanno veramente incontro alle famiglie. Una delle novità di questo bilancio è l'ingresso del PNRR che ha aumentato di molto il budget complessivo a disposizione dell'amministrazione comunale. Quali sono le novità a questo proposito? Un bilancio totale del Comune di Fano, che comunque è la certa città delle Marche, che si aggira intorno ai 200 milioni di euro, con un bilancio in conto capitale di circa 72 milioni di euro, dove appunto confluiscono tutti quegli investimenti e quelle opere del PNRR, che ricordiamo sono 46 per un totale di 47 milioni di euro, nei quali c'è anche un importante cofinanziamento del Comune. Questo significa un grandissimo lavoro da parte di tutti gli uffici comunali che, come sappiamo, queste risorse hanno delle scadenze molto vicine, dei step intermedi specifici e anche tutto un monitoraggio che deve essere fatto appunto delle varie fasi del percorso dell'utilizzo delle risorse e dei progetti. Nel bilancio ci sono anche delle novità dal punto di vista urbanistico? Come sappiamo c'è un'importante riduzione dell'edificabilità, che significa un minor gettito IMU per circa mezzo milione di euro per il Comune di Fano e poi ci sono anche delle scelte specifiche su aree nostre che impattano significativamente sul nostro piano delle valorizzazioni comunali con un diminuzione di valorizzazione di circa 20 milioni di euro per quanto riguarda appunto il valore delle nostre aree, quindi gli effetti in conto capitale. Di solito il bilancio veniva approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, quest'anno invece si è slittati nell'anno successivo. Questo ha comportato dei problemi per la pubblica amministrazione? Problemi no, un lavoro diverso. È stata una scelta precisa votata in giunta, quella di attendere la stabilizzazione anche a livello nazionale del quadro dei costi dell'energia. Abbiamo così alla fine dello scorso anno messo in sicurezza le spese, anticipandole comunque le spese dei primi mesi dell'anno. Da lunedì scorso nel centro storico di Fano sono in corso importanti lavori di bonifica della condotta idrica. L'intervento, frutto di un investimento da parte di Aset e S.P.A. di circa 180 mila euro, prevede la posa di circa 660 metri di nuove condutture in ghisa sferoidale. Le strade interessate sono via Arco d'Augusto, via Cristoforo Colombo, piazza Andrea Costa e via Malatesta. È qui dunque che è già in corso la bonifica degli ultimi tratti di vecchie condotte in acciaio e polietilene, ancora in uso nel centro storico fanese. I lavori, la cui conclusione è prevista entro il 30 giugno, verranno realizzati un tratto alla volta e restringendo l'area di cantiere per ridurre al minimo i disagi. E rimaniamo in centro storico per parlare dei resti romani affiorati in un cantiere edile, perché il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha invitato il ministro della cultura, Gennaro San Giuliano, a vedere gli scavi. Sentiamo. Sindaco, dei ritrovamenti veramente importanti nella città di Fano, che hanno richiamato l'attenzione anche dei media nazionali e delle istituzioni, e quindi da qua la sua richiesta. Sì, intanto questa scoperta riconferma la centralità di Fano per quello che riguarda la storia romana e porta Fano al centro dell'interesse storico-archeologico a livello regionale e a livello nazionale. Questa scoperta, che sia o non sia la Basilica, è comunque una scoperta straordinaria, che riconferma la presenza di edifici pubblici e di presenze significative nel nostro centro storico. Ma non è solo questo, è il teatro romano e ci sono tante altre presenze. E allora ho scritto il ministro, invitandolo a venire a visitare la nostra città, a visitare gli scavi, ma a visitare anche il resto delle testimonianze romane, perché è giunto il momento che ci sia anche un'attenzione forte verso la nostra città, anche con dei segnali concreti e di aiuti concreti. Noi abbiamo fatto sempre la nostra parte, lo voglio sottolineare, in questi anni abbiamo messo anche delle risorse significative per aiutare gli scavi, abbiamo collaborato e qui devo ringraziare anche la sovrintendenza per questa bella collaborazione, ma è giunto il momento che arrivi anche un aiuto importante e un'attenzione importante su Fano, sul nostro valore storico-archeologico anche da parte del Ministero. Per l'ampliamento di questi scavi nello specifico il Comune darà il proprio contributo? Sì, faremo anche noi la nostra parte, metteremo delle risorse che avevamo accantonato per altre cose, potremmo destinarle qua, però non sono sufficienti ovviamente ed è importante che arrivino risorse aggiuntive da parte del Ministero. Ed ora apriamo la pagina dedicata alle vostre segnalazioni, partiamo dalle foto scattate in via 27esima strada a Bellocchi di Fano. Il parco pubblico, ci ha scritto un telespettatore, è stato completamente devastato dai vandali il 23 febbraio scorso. Le incursioni si ripetono ormai da mesi ed è successo anche il 3 marzo. I ragazzi che compiono questi atti, ha proseguito il reporter, sono molto piccoli, frequenterebbero la quarta o quinta elementare. Sono stati ripresi anche mentre tiravano mattoni e questi filmati sono stati mostrati alla polizia locale di Fano. Mesi fa, aggiunto, alcuni di loro furono identificati dagli agenti ma non furono denunciati. È difficile prenderli in fragranza di reato e molte persone hanno paura di denunciare per le ritorsioni che si sono già concretizzate con serrature dei cancelli incollate, cassette delle lettere di velte e altro. Di questi fatti, nel corrente anche il sindaco Seri, ha concluso il telespettatore, ma i vandali continuano nella loro opera. E ci spostiamo a Senigallia, dove il signor Marco ci ha inviato queste fotografie e un video alla nostra redazione per denunciare una discarica a cielo aperto lungo il fosso adiacente alla strada delle Cone. Come potete vedere, dalle immagini sono stati abbandonati rifiuti di ogni genere, come pneumatici, cassette, bidoni e bottiglie di plastica, tubi e grossi sacchi dell'imbondizia. Presentato ieri all'interno della Fondazione Carifano il progetto Reti Solidali, l'iniziativa messa in campo dalla Caritas Fano, che ha lo scopo di sostenere chi è in difficoltà sotto l'aspetto alimentare e abitativo. Sostenere le persone e le famiglie in situazioni di fragilità economica e disagio sociale che vivono nell'ambito territoriale sociale 6, offrendo a loro sostegno sotto l'aspetto alimentare e abitativo. È il progetto presentato nei giorni scorsi intitolato Reti Solidali, un acronimo che sta a significare Recupero Eccedenze Territori Solidali, un progetto della Fondazione Caritas di Fano insieme all'ATS6, la Cooperativa Contatto e la Fondazione Banco Alimentare, con il sostegno della Fondazione Carifano. Questo progetto affronta quattro importanti asset di intervento. Il primo è quello dell'aiuto alle famiglie, quindi c'è un supporto economico alle famiglie in difficoltà, non solo di Fano ma di nove comuni del territorio. Il secondo è quello dell'intervento sulla povertà alimentare, attraverso il recupero delle eccedenze, la distribuzione del fresco, l'aiuto e la distribuzione attraverso anche la rete delle parrocchie, delle associazioni e di tutto il territorio. Il terzo elemento è quello di intervenire nel supportare, nel reintegrare attraverso processi di orientamento, integrazione al lavoro, alcune situazioni di fragilità che si incontrano in questi nuovi comuni. Il quarto asset è quello della distribuzione di beni materiali, dai vestiti ma anche al mobilio, attraverso la rete delle caritas, delle associazioni, sempre per le famiglie intercettate dagli sportelli del progetto. Solo nel 2022 sono stati 737 i nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità che si sono rivolte al centro per l'ascolto per un totale di 1784 persone. Di queste almeno 65 senza dimora o con ospitalità temporanea. 213 invece le persone che hanno rivolto richieste per bisogni di tipo abitativo. Per quanto riguarda la mensa sostegno, sempre nell'anno 2022 sono stati 3612 i pasti distribuiti a 134 nuclei, di cui 59 singoli, 75 famiglie e 25 minori. A questi si aggiungono coloro che usufruiscono del progetto Passamano con la distribuzione di cassette con prodotti ortofrutticoli nei pressi del Codma. Lo scorso anno infatti sono state 86.000 le cassette consegnate direttamente agli utenti e alle organizzazioni che a loro volta hanno distribuito, alle famiglie, a loro assistite. Infine anche il centro Rivestiamo che ha distribuito a chi ne aveva bisogno abiti, biancherie per la casa e mobilio. Per richiedere supporto e informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli della Caritas di Fano. Il progetto Reti Solidali ha anche degli aspetti innovativi, come quello dell'uso di alcune nuove tecnologie per scambiarsi le informazioni, i dati e la messa in rete, ma anche quello di alcune sperimentazioni e innovazioni, come quello di provare e verificare che impatto ha, ad esempio, la mensa diffusa in alcuni territori, al di fuori del territorio di Fano, perché ci sono tante situazioni, tante persone, tante famiglie in difficoltà che necessitano e che sono impossibilitate anche a raggiungere questi luoghi. Inoltre, secondo i dati 2022, il Banco Alimentare presente su tutta la regione ha assistito nel territorio provinciale di Pesaro e Urbino attraverso 132 strutture caritative beneficiarie per un totale di 924,4 tonnellate di alimenti distribuiti. Ringrazio la Fondazione Carifano per aver colto il valore di questa progettualità, un sistema capace di generare risorse e opportunità per un intero territorio, che qui sto parlando dei 9 comuni dell'ambito territoriale sociale numero 6, tramite sinergie virtuose tra il pubblico e il privato sociale, che è quello di eliminare il più possibile le duplicazioni, le fermentazioni negli interventi, ma invece trovare il modo, insieme, di valorizzare e potenziare le buone prassi che già ci sono sul territorio. I giovani soci delle BCC si sono riuniti a Fano per due giorni di formazioni dedicate all'educazione finanziaria. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio di Cristiana Guerra. Trasmettere i valori e gli obiettivi della finanza responsabile e cooperativa. È questo l'obiettivo che la Banca di Credito Cooperativo di Fano, insieme a Federcasse e alla Federazione Marchigiana, si è posta attraverso un progetto denominato Maestri e Maestre di Finanza. Due giornate intense di formazione, il 10 e l'11 marzo, per i soci dai 18 ai 40 anni, che rappresentano il futuro della banca. Da venerdì pomeriggio si sono susseguiti tanti eventi per rafforzare le conoscenze dei ragazzi, far comprendere i valori su cui si basa il credito cooperativo, sempre attento e vicino alla gente, capace di ascoltare, rispondere e risolvere i problemi in maniera non burocratica e all'insegna della qualità. Accade che parliamo di finanza, ne parliamo a livello regionale, ed è un po' un seguire quello che si è stato a Iesi, dove i giovani soci si sono incontrati l'anno scorso, settembre, e adesso riprendono a discutere dei problemi dell'economia. Quindi le banche di credito cooperativo hanno anche questa possibilità di avere fra i propri soci anche un gruppo di giovani soci che si stanno formando e stanno a prendere poi in prospettiva quello che è la gestione delle banche di credito cooperativo. Quindi auguriamo un buon lavoro ai giovani. Un altro aspetto importante è che noi stiamo facendo crescere la cooperazione nelle varie scuole, anche di Fano, dove si formano i futuri cooperatori, perché insegniamo ai ragazzi delle scuole a organizzarsi, a formare una cooperativa. Una sfida importante e concreta per i partecipanti che sono stati impegnati in tavoli di confronto e laboratori di educazione finanziaria. Sabato mattina è seguita la presentazione del progetto Crescere nella cooperazione del Liceo Nolfi a Polloni per poi passare alle testimonianze e al dialogo con i direttori delle banche dell'intera regione Marche. Siamo molto grati di poter partecipare a questi eventi organizzati dalle banche del credito cooperativo e del territorio perché per noi è molto importante conoscere e informarci su delle pillole appunto di buona finanza per sapere come gestire i nostri fondi e soprattutto scegliere consapevolmente dove andare e chi affidare il nostro patrimonio e quindi quelli che sono un po' i nostri risparmi. A conclusione della mattinata sono stati distribuiti i diplomi ai partecipanti alle due giornate in un clima di emozione, speranza e fiducia nel mondo giovanile. E ora passiamo allo sport con le contestazioni dei tifosi alla Vis Pesaro. Ieri la squadra ha perso in casa contro il Montevarchi con il risultato di 0 a 1. Verso la fine della partita si sono alzati i cori dei tifosi biancorossi contro gli stessi giocatori considerati inadeguati e contro la società colpevole, secondo loro, di aver adottato scelte sbagliate sia di mercato sia di programmazione. Gli animi poi si sono surriscaldati a fine partita in particolare all'uscita dagli spogliatoi. Le forze dell'ordine sono state impegnate fino a tarda notte. E adesso sentiamo il maestratto delle dichiarazioni rilasciate dal responsabile dell'area tecnica Michele Menga durante la conferenza di fine partita. È un momento veramente duro. Duro e mi dispiace per questo popolo perché ogni domenica ci sta vicino sia in casa che in trasferta. Quindi i primi a soffrire, ma credetemi a soffrire tanto siamo noi e io in primis soffro perché se noi guardiamo la rosa di questa squadra non credo che non sia una rosa all'altezza di disputare un campionato di Serie C. Non è che dici non ti alleni, non lavori in settimana, non stai sul pezzo, non cerchi di fare di tutto. I ragazzi fanno di tutto, noi facciamo di tutto. Evidentemente non basta, bisogna fare ancora di più. Per fare ancora qualcosa di più bisogna lavorare ancora di più. Mi aspetto una grossa reazione. Una grossa reazione perché potrebbe essere veramente il momento di svoltare, di svoltare anche perché per dare una gioia anche ai tifosi, perché un derby è sempre un derby, va giocato fino alla morte, però anche oggi i ragazzi a livello di impegno, c'è gente che dentro lo spoglatoio sta piangendo, sta piangendo perché comunque sono i primi a stare male, siamo noi i primi a capire, a cercare di farci le domande per capire perché siamo in questo momento. E ripeto, dobbiamo stare uniti, compatti, è giusto che l'ambiente sia arrabbiato, anzi, ripeto, il primo responsabile sono io e sono qua a metterci la faccia perché comunque è giusto che io ci metta la faccia. E ora cambiamo argomento. Fine settimana di risate a Fano con i comici del San Costanzo Show che tornano al cinema con Non aprite quella sporta e la scoperta del secolo, il cortometraggio sulla Basilica di Vitruvio. A teatro invece andrà in scena lo spettacolo Somari di Battaglia. Bene, ci siamo, è un evento eccezionale, sapete che da poco è stata ritrovata forse la Basilica di Vitruvio. La Basilica di Vitruvio, l'abbiamo trovato. E questo è che il San Costanzo Show ha appena fatto da poco un cortometraggio, la scoperta del secolo e quindi noi siamo molto onorati di quel fatto. Lo sa, abbiamo trovato la Basilica di Vitruvio là in centro storico. L'ingegnere Mirco Ioni. Il suo Mirco Ioni, l'archeologo che ha trovato tutta strada. Lei pensa che io ero qui a Fano TV, per fare questa intervista. Mi sono messo a scavare perché è il lavoro mio. E insomma, scava, scava, sa cosa ho trovato? Qui sotto Fano TV. No. La muraglia cinesa ho trovato. Qui sotto, non è così. Qui sotto. Adesso devo smontare tutto, lo studio, niente, quindi tocca smontare tutto. Qui dove scavi, scavi. Certo, c'è la muraglia cinese. Hai capito questi cinesi quando si erano in bocca alle mani? Ma fino a qui sono arrivati. Fino a qui sono arrivati. Allora prima che... Che muraglio grosso che hanno fatto. Allora aspetti perché vi ricordiamo che venerdì 17, quindi questo, siamo al Teatro Politeama con lo spettacolo Somari di Battaglia alle ore 21. Sabato c'è la proiezione del film. Eh certo. Non apprezzate quella scorta. A seguire il cortometraggio La scoperta del secolo. Quindi sabato grande evento, domenica alle 18.45 il film. E finì vi aspettiamo per questo grande weekend. È proprio un weekend de botto. Venite a scavare, venite a scavare. Sabato e domenica al Cinema Teatro Politeama di Fano. Vi aspettiamo. Adesso si è sposti perché io devo scavare. Ma ancora qui? Ma scusi, sono la rosa della cieca. Cosa? E chi è l'ingegnere che scava? Eh sì, l'ingegnere Mirco Ioni. E io non ho fatto in tempo per fare la spesa. Ho bisogno di qualcosa per fare il brodo, i capleti in brodo. Se trova qualcosa, non il butti via, mi diamo a me che fa sempre buono per fare il brodo. Vabbè, vabbè. Se trovo qualcosa, glielo metto da parte. Eh sì, sì, che c'è da fare. Ma chi è sta malta? Che ha chiamato? Oh bravo, se scanschi io adesso scavo tutto qua, trovo il muragliolo, tiro fuori, sei turisti, tutti affrotti. E vi ricordo che domenica 19 marzo, in occasione della festa di San Giuseppe, protettore dei lavoratori, alle ore 11 trasmetteremo la Santa Messa dalla chiesa di Tavernelle di Colli al Metauro, ufficiata da Don Pier Giorgio Sanchioni. La diretta, si legge nella nota della parrocchia, vuole essere sia un dono a tutti gli anziani e agli ammalati che non potranno essere presenti e sia un omaggio a tutti i papà. Invece lunedì sera, alle ore 21, il sindaco di Fano, Massimo Seri, sarà ospite nei nostri studi per una nuova puntata di Primo Cittadino. Questo è il cartello con tutti i numeri di riferimento per intervenire in diretta. E subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire il primo dei cinque appuntamenti organizzati da CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, dedicato alla Tartufficoltura, un'opportunità per le aziende agricole. Il titolo della prima puntata è la lavanda nelle tartufaie coltivate. Per questo è tutto, l'appuntamento invece con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!